Ciao a tutti ragazzi, sono in compagnia di Solushay One, di Matt e di Lucchino! Ragazzi siamo nella serie live che facciamo non tutte le sere ma quasi sul mio canale YouTube e anche questa sera verso le 20 circa dovremmo essere live, quindi mettetevi l'appunto sul telefono, sul calendario, sull'astuccio, da qualche parte ricordatevi, spammate, strailaccate questo video e venite stasera in live, mi raccomando dunque il pacchetto è DarioF220, la 1.12 e noi abbiamo degli obiettivi in questa serie ossia creare questo mega generatore che si chiama il Rainbow Generator che si crafta craftando tutti i generatori della Extra Utility 2 e farli funzionare tutti per far funzionare questo quindi è un obiettivo abbastanza anglosassone e poi creare la mega batteria della Draconic e riempirla questo è l'ambaradam di questa serie, finita questa serie ne faremo delle altre mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate in questo video era un annuncio live ma già che ci siamo ci portiamo avanti, facciamo qualcosa come si dai? Allora io intanto che voi craftate faccio un giro turastico, turastico qua abbiamo tutti noi aggeggi dei nuovi macchinari, della nuova mod che la Industrial Forgoing perché parole grazie a questa aggeggi che ora andremo a finire facciamo la plastica ok? Abbiamo anche il rubinet che è bello, vedi faccio la doccia poi abbiamo Lucchino che sta registrando in sala quindi avremo casino di bambini poi di qua abbiamo un albero in casa, voi dite che faccio un albero in casa? perché grazie alla Thermal Expansion prendiamo la resina, la resina ce la porta sotto sempre dall'albero e andiamo sotto che c'è l'impianto vero e proprio di Currence perché grazie alla resina e grazie a quell'albero abbiamo corrente più o meno infinita vedete qua? Abbiamo una mega batteria, mega, oddio, 2 milioni di RF bella piena perché qua abbiamo tutto l'impianto abbiamo da lì la resina che arriva da quell'albero e entra in questo macchinaggio sempre dalla Thermal che è il Fraction Hunting Steel vedete la resina, poi diventa, 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 non ricordo più il cacchio diventa un liquido strano comunque questo qua, il Tree Oil che alimenta queste compression Dynamo che sono upgradeate, là dietro ce ne sono altre due mentre queste qua, le Steam Dynamo vanno insieme a un Ambradam che esce qua di tanto in tanto ci dà una pallina che è questa qua ragazzi, le Basic, no la Basic Drawer è il coso ma voi ce la fate eh, ne prendo una i Rosin i Rosin, i Rosin si servono per creare cibo e soprattutto si può utilizzare al posto della slime e soprattutto si può utilizzare come combustibile 800 di combustione ok, questi qua vanno qua e creano bambete adesso abbiamo tutto pieno ragazzi ma infatti poi dovremmo potenziare il tutto questa sera in live boh, io ho fatto il giro turistico tocca a voi che hai craftato Sol? è un Mechanical User e l'altro lo crafti te giusto per far vedere i craft questo qua? serve un dropper e il dropper dopo lo metti dentro quest'altro crafting table ma non servono i due a Resonant lì? eh c'è già come c'è già? uno già ce l'ho eh non ho capito un Mechanical User già ce l'ho ah faccio l'altro ne serve un altro eh ok bambete quindi ah mi qua quindi questi qua non servono più Dennis stai guardando? sì così 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 impari qua c'è un creeper allora li metto in giù così uno e uno a due fantastico ragazzi che succede? qua dentro noi ci andremo a mettere un po' di legna potremmo portarci anche il tubo proprio per fare i fighi eh eh volendo infatti io sto in pianto lo sposterei vicino alla legna un po' più vicino eh oppure si riempie adesso uno o se no allunghiamo il tubo e mettiamo qua il drawer del tubo cioè della legna o se no facciamo i fighi mettiamo i tubi perché tanto ce li abbiamo vabbè mettiamoli a mano adesso voilà è anche di là metti anche di là però qua bisogna fare i generi allora generi click no o right click eh col tasto destro piazzi sì sì random slot ok eh place block ok fatto ecco qua esattamente ragazzi vedete ora questo qua questo aggeggio sta rompendo il blocco di legna e ci crea il fluido latex vedete voi lo vedete adesso a breve si romperà il legno e poi ne pianterà sempre uno nuovo eh questo latex entra qua dentro vedete mischiandosi con l'acqua ci creerà la plastica la plastica la plastica piccoli pezzi di plastica piccoli pezzi di plastica poi la plastica è fusa giusto questa brucia questa qua con nove ne fai una poi con nove di queste qua facciamo una plastica vera e propria guardate con nove di queste qua facciamo una plastica la dry rubber che poi non è plastica è re è gomma è gomma è gomma poi la gomma quattro di queste gomme si vanno a cuocere e diventano plastica ce l'ho fatta a dirlo comunque l'albero qua ci mette un po' di tempo non ce ne è un bel po' tre minuti almeno ci mette eh lo so però prima doveva mettere a mano invece con quella gigi adesso è automatico più o meno sì quindi a voglia abbassano senza mettere tubi dai effettivamente sì vai potresta che ci hai messo sì magari potremmo mettere una qualcosa qui che fuoriescono e ce le porta in qualche chest o facciamo l'autocrafting beh se no potremmo anche facciamo altri due li mettiamo dall'altro lato così fa ancora più veloce però entra non è una cosa che ci stava adesso Danny se entra in casa che fuori è pericoloso veloce veloce che scoppia un creeper ci fai un danno dalla madonna allora ora andremo a fare la storage unbrasking prefine la refined storage la la storage refined ovvero la vecchia applied questa è la vecchia applied ma abbiamo anche la nuova applied nel pacchetto giusto? esatto allora andiamo a fare il controller per iniziare il controller qual è? bam bam il controller è il primo in alto sinistro che trovi chiedo veni a aprire il casino ragazzi la prossima volta che ci sarà mio figlio cercherò di metterlo magari in uno sgabuzzino a registrare oh non trovo il controller lo so pirla io scrivi che ho c'è la refined è il primo no ho fatto una cagata io hai scritto solo refined e basta storage refined oh eccolo qua creative controller non mi dai il capo non è creative l'altro il controller normale creative controller su quale cacchio è raghi quello accanto al controller là il creative non ce l'hai due no è controller e controller e creative controller ti giuro non ce l'ho e scrivi solo controller controller ma perché non devo averlo scusami se scrivi solo controller dovrebbe essere di fianco quello luminoso allora come si chiama scusami refined ok io mi sono bagliato refined oh ora si eccolo qua allora quattro ferri in diamante il machine case non è ferro non è ferro è quarzo riche d'iron magari sono tre ferri e un quarzo del nether ok no io ormai sono in confusione mi date la mano questa plastica basta cuocere ok ci siamo mi hanno rubato le ceste vanno qua quale è la plastica ce l'abbiamo il quarzo no avete parlato di 66 non ho capito nulla qua nella crassina l'ho trovato un po' che c'era già allora vabbè intanto ne saranno quattro queste sono da cuocere tre di queste sono da cuocere no non sono da cuocere non sono da cuocere non sono da cuocere volendo c'è un altro macchinario che non ci fa sprecare il quarzo il machine eh no scusi il material stonework factory smelting redstone machine optus io non lo vedo eh aspetta solo tu lo conosci no no c'è tra c'è come si fa il silicone quello dell'applied però ah ok dell'applied infatti stavo guardando non c'è il material stonework factory si chiama praticamente è una farm di cobblestone che poi te la lavora te la fa diventare gravel sand e silicone infine perché con la vecchia perché con la vecchia andrei io il silicone si faceva così è roba da fare in live adesso cuocciamo le tre pezzi al volo ok va bene va bene vabbè è sempre un'idea Dennis eh stai capendo qualcosa? no infatti immaginavo posto oh perché non cuoce? ok allora 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 mettiamo via questi qua che non ci servono oh abbiamo tre pezzi di questi però ci serve prima di tutto il eh ah quanti ne servono porca paletta io pensavo di aver finito invece che ci va al centro? non ho visto i ragni sono vivi i ragni? ci va la stone eccola la stone semplice poi uno due tre quattro un diamante e abbiamo fatto e abbiamo il controller signori qualsiasi corrente? qualsiasi corrente? oh qualsiasi corrente? sì 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 dopo il controllo ci servono a parte i tubi il crafting grid no il solder il solder prima perché il solder? il solderer perché il solder? praticamente è quello che crafta tutti i processori e robe varie della della ah è vero hai ragione hai ragione hai tolto il crafting qua raga ripetetemi di ferro con ok allora faccio io ah ok uno due tre ok e voilà voilà signori voilà ora mi servono due sticky pix 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 bastano anche quelli normali teoricamente se non mi sbaglio a me mi da ma a me mi dai gli sticky eh non cambiano il craft? no allora facciamo gli sticky non è un problema tanto abbiamo 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 appunto i gomini sotto i ragni portali su dammene due arrivano 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 dammene due dammene due dammene due dammene due dammene due dammene due aspetta che arrivano due stack no basta ok fatto anche il solder poi non è soldato allora abbiamo il soldato il controllore dentro denis non devi stare fuori quante volte l'ho detto se scoppia un creeper ci fai un danno allora vado io lagchissimo mamma mia mamma mia come lagchissimo allora lo facciamo di qua mi hanno detto giusto? si esattamente quindi mettiamo il controller lo metterei qua guarda ma quando è bella là o lo volete in vista no è più bellino perché si illumina ok poi qua li mettiamo questo e ora facciamo il controller io il controller lo metterei non qua ma qua il controller l'hai già piazzato qua no non il controller il monitor allora spostiamo questo al monitor si fatelo voi il monitor con lo crafting il grid il crafting no prima il grid dopo il crafting grid perché ci serve solo di noi grazie il controller l'hai dispiazzato va bene lì? eh si vado eh collego vada vada 1 2 3 4 silicone dopo però abbiamo bisogno di cavi tanto silicone ma non è problema eh chi? tanto silicone si è acceso? stai facendo? bravo controllo controllo si si è acceso controllo 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 vieni su Dennis Dennis tu sei ancora piccolo poi capirai queste cose vieni vieni 1 2 3 4 qua guarda che si è acceso vieni vieni guarda che bello ti piace? ti piace? si io sono vicino a niente eh ma poi farai aspetta allora abbiamo il soldier finalmente guarda qua Danny sempre questo c'è il soldier che ci crea i printed silicone tu sai leggere? no prendiamo qua sono iron ingot arriva 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 ah c'hai tu? prende scusate ma metterla ne lo voglio le servono 4 ma mettere la crafting table di qua no eh 5 5 silicone ancora 1 aspetta arrivo per adesso tanto poi facciamo il blocco sono qua dentro te l'ho messi là dentro Sol eh no l'ho già messo nella crafting nella crafting te l'ho messo adesso li prendo nella crafting che ho messo il silicone qua dentro che stai facendo? ma perché se vi è ancora uno sto facendo il grid si ma il crafting il grid ci serve si e devi fare prima il grid per poi passare il crafting grid ok allora tre vetri il quarzo ce l'ho io construction core destruction core e l'impoved redstone e due ore ce li hai tu? sai che redstone si il diamante no e adesso si sapete che non ci basta il quarzo vero? bisogna andare nel nether eh vado io al massimo vai vado se vuoi vengo con te ce la fai? andiamo ce la fai o vengo? dai vado no no tranquillo ok ma quindi c'è altro silicone? poi è finito altro silicone? no è finito uso tutto il quarzo aspettiamo che ritorno dunque ragazzi questo era un assaggio ma tutto ciò che vedrete questa sera in live un bacione un abbraccio ringrazio Matt ringrazio ringrazio soul e ringrazio Lucchino preco preco Lucchino Lucchino ciao ciao